Benvenuti in Master and Servant, io sono All, stiamo giocando a una Cementran chiamato Barbarossa con il Marocco e siamo nella cacca, stiamo perdendo una guerra che ho preso chiaramente sotto gamba, faccio sempre in realtà e come siamo messi in questa guerra? Marocco contro Songhai e Dahomey, che non so neanche dove si trovi Songhai sta vincendo perché è dalla nostra parte, cosa ho? Per il momento l'entusiasmo è alto, quindi ok, non altissimo World Estation la devo abbassare assolutamente, stabilità 0, loro hanno stabilità 1, vuol dire qualcosa, quindi forse spenderemo dei punti lì Punto di blocco, ok, partecipazione 100%, abbiamo perso un sacco di guerre, in realtà ho fatto una stronzata io dividendomi qua giù, andando verso Timbutu di corsa, quindi adesso l'obiettivo è quello di fottere il Manpower usando i miei numerevoli forti e cosa che posso fare in realtà? Sto perdendo denaro, quello non è un grosso problema in realtà farò, metterò su altri, penso, mercenari e quasi quasi cercherò di attirarli lontani da lì nel frattempo qua c'è un forte mi sembra, no non c'è un cazzo, dov'è il forte? Marrakesh quindi Marrakesh è il primo forte che andrà a bruciare del loro Manpower, mi viene da dire, inoltre qui hanno anche un problema di supply, no, no, sono tranquilli, tranquillissimi anzi va bene, tengo quindi i fortini aperti, mi fermo lì a Ceuta, fez è la mia capitale quindi finché non cade non ho grossi problemi prima cosa da fare, prima ancora di far riprendere il tempo, è vedere che cosa posso spendere qua niente, ho preso le quantity intanto, cosa che non vi ho detto, l'ho fatto al volo perché mi serviranno per fare delle guerre e ho l'oversea exploration pronto cosa che, sì, prenderò, però non al momento, non mi interessa in questo momento mi interessa invece questa qua, militare, assolutamente e mi interessa avere un generale migliore perché questo ha due stelle quindi vediamo se il generale ship che mi può dare sì, questo qui è qualcuno di valido è qualcuno di valido, assolutamente sì bene bene, ne ho due, quindi qua ho un'armata sola la teniamo unica, unita per il momento ok, un generale a livello 2 è meglio di un generale a livello 1 qui arrivano messaggi cazzina loan, ci fanno dei prestiti, va bene in realtà sto prendendo prestiti in giro da ripagare in realtà sono veramente pochi, quindi però ne ho tanti, ne ho 6, in realtà ne ho due minime e le altre un po' più alte ok bene, ci siamo ci siamo andiamo avanti così hanno preso le città adesso io aspetto che vanno a bruciarsi il manpower lì nel frattempo magari stacco due mercenari tre anche e li vado a riprendere le mie zone che magari li uso anche come esche loro stanno lì che più territori liberi ho, meglio è e se Daoni si stacca magari è meglio vediamo che fanno loro dovrebbero andare su Marrakesh adesso bruciarsi del gran manpower immagino vediamo intanto liberiamo i nostri terreni i territori così li costringiamo a continuare con gli assedi sì ok liberata andiamo a liberare Tafilalt e portiamo avanti la guerra finché loro non perdono un po' la voglia di fare o vengono addirittura contro di noi il nostro manpower intanto è arrivato a zero il che è negativissimo però quello loro non è altissimo quello di Daoni è alto però chissene non mi preoccupa più di tanto a Marrakesh dovrebbero bruciarsi un bel po' e poi quasi quasi se riesco dato che sono tutti impegnati qui li mando a Tsongai e vediamo un po' intanto a Marrakesh iniziano a bruciarsi un po' è meglio riprendiamo Tafilalt e li aspettiamo qui Ceuta porto 4 velocemente però non mi devi coprire le cose grazie ok benissimo stiamo liberando continuo a liberare vado avanti con la tech vai e li lasciamo qui vedete che stanno tornando sti bastardi dove stanno andando a Sus ok quindi passiamo di qua e vediamo di scherciarli qua veloce però vediamo se ce la facciamo no no ecco non ho letto le minumosse allora questi li lascio qua e questi li portiamo a Tafilalti intanto qua c'è l'Atlas che blocca tutto cos'è bene va bene accetta ok ci portiamo le truppe laggiù e liberiamo i territori e poi direi che possiamo andare a potremmo tentare però non voglio tentare fare altri altri 5.000 mercenari 10.000 e mandarli contro questi magari spendere 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 spendiamo ok loan possiamo farne altri 10.000 mercenari 2.85 ma dai sì questo è un po' un'esagerazione lo so però qui arrivano in 16 giorni perché non ho soldi disconstruction oddio 10.000 mercenari oh ma insomma non credo di aver fatto una cazzata no vabbè ok 6.000 questo è straccosti ma sì intanto li butto a morire insieme a questi 3.000 intanto qua il manpower il songhai è simile al mio ok mille manpower ci piace tantissimo è bruciato ok li portiamo qua e gli mettiamo il secondo generalino questo qui ok 9.000 contro 7.000 andiamo un po' di fare di tentare la liberazione proviamo a far così un po' piano delicato voglio voglio che lasciino Marrakesh ok ecco hanno lasciato Marrakesh bellissimo torniamo indietro benissimo torniamo su guerra persa d'accordo però la loro morale è a pezzi vediamo a riprendere il giro tornano a casa benissimo allora queste qua 4.000 tornano a liberare a liberare i territori un advisor è morto forse forse eh cazzo c'è niente di buono ok 4.000 uomini a liberare territori di nuovo tu prendi qui andiamo fino a dad questi dovevano vanno sus va bene venite a spaccarmi i mercenari chi se ne frega 1.000 manpower mi piace quanto voi vi bruciate un po' gli uomini ok niente manpower la metà dei miei uomini in realtà adesso 4.000 la me li fa me li guaypate però anche voi state calando 16 contro 27 non è male allora vediamo un po' come siamo messi qua island dailand montagne montagne e dovremmo stare in difesa my power 23 benissimo chissà se facciamo in tempo però anche queste montagne in realtà non so non so non so se ho fatto una cazzata vanno su ok torniamo a marrakesh e li aspettiamo lì va bene cos'arte ok 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 Abbiamo denaro Manteniamo piety Dura Come siamo messi? Allora cosa voglio? Niente Non voglio niente per il momento Voglio solo vedere come siamo messi Che sono gaia e medio Io ho le water station E' un'exhaustion molto molto alta Che non mi piace Cioè che non riesco a trovare dov'è Quindi riduci Un filino 17.000 contro 27.000 Dovremmo farcela 19.000 23.000 Dove vai? Vai a Fez? Andiamo a liberare Eh lo so Main power piace Main power Andiamo a liberare dei territori Ma che magari la richiamiamo in guerra Cosa succede? Relazioni diplomabili Thread power Cambio di autonomia Toleranza Diplomatic relationship Cosa vuoi tu? Grant Monopoly Ok Vediamo un po' se riesco a fare qualche cosa Staccarli A questo punto devo fare La guerra Qua è rischioso Quello che sto facendo E' decisamente rischioso Anche molto Troppo rischioso Mi faccio la cacca in mano Vediamo un po' che giro fanno Tutti assieme girano Va bene Iniziamo a liberare cose Così abbassiamo la world exhaustion E li portiamo a Essere infelici Medio Eh sì Dove vanno loro? Fiiiwig Vanno Fez Buono Fez e montagna Prendiamo a liberare le cose Loro vanno su Ovvero vanno a Fez Ci andiamo appena Passando da qua E cerchiamo di farlo scontro lì Poi vediamo un po' D'Oni Recruit regiment No Voglio un bel mercenario Niente non posso farlo Vediamo un po' come riesco a gestirmi sta cosa Loro vanno giù Bene bravi Andiamo a Fez E vediamo che succede Siamo in difensiva A Fez Ma non dovrebbe andare malissimo sta battaglia Eh Andiamo andiamo Lo so Si continua A riprendere territori Questi dove vanno A Tuat A Tuat Ok Adesso li ricerchiamo Li andiamo a prendere Andiamo a prendere Cerchiamo di spaccarli Dove vanno loro Ah ah Anche tu Metto 5 per gli spostamenti Tanto Loro si spostano Si spostano ancora Però ci vengono Bravi Così dovremmo aver vinto La guerra La guerra Per aver Riportato un po' La situazione stabile Liberiamo Tuat C'è una guerra In corso Forse Avevo visto qualcosa Sono qua Scappano 20.000 Contro Noi Ok Vediamo un po' Se accettano La pace bianca No Trattati Eh Tributa Cosa vuole E negativa La pace bianca Va bene Adesso mi riprende I miei territori E li aspetto di nuovo Eh Sì Li aspetto di nuovo Qui Eh Oppure Loro stanno scappando Si stanno riformando Oppure scendo Però 22 Sono pochi 22 E non di più Ok Riprendiamo i territori Riprendiamoli Riprendiamoci tutto E poi Devo in qualche modo Arrivare a una pace Assolutamente Me la faccio Quando è ora Loro stanno salendo Tutti Ok Torniamo su Torniamo su E poi Mi prendo il territorio E Aspetta C'è una guerra In corsa Proviamola Ok Via subito Non ce l'ho fatta Ma l'abbiamo vinta Bene 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 Loro se ne devono scappare A casa Adesso Riprendiamoci i nostri territori Ok Che voglio Andiamo a pace bianca No vero Non siete ancora Decisi Ok Andiamoci a prendere i territori Sì Come si è ammesso Songhai Manpower 2000 7000 qua 12000 Insomma Non ho mercenario Quello No Però Potrei farli Sì Lo so Grazie Ok Benissimo Riprendiamoci anche questa E Anzi Me ne mandiamo Solo No Questo Solo questo Me ne mandiamo qua Ok Mentre adesso se ne torna Marrakesh Vediamo se è il caso Di prendere un altro Un'infornata Quasi quasi Grazie Che loro stanno tornando Però sono pochi Pertanto Prendo un'altra Bel finanziamento Ok Tempo scaduto Intanto questa guerra Sta diventando lunghissima E costosissima Ok Prendiamone altre due Drammatica Sta cosa qui 10.000 Me li darebbero No Perché ho pochi soldi Questi si E me li faccio venire fuori Qua Ok Vai 19.000 Sono tutti qua Ok Bravi Bravi Venite Che guerra di merda Che sto portando avanti Veramente Fermi Fermi Offerta di pace Voglio uno Two hat No Non voglio assolutamente Rilasciare nulla Anzi Voglio questo Mi da 8 Mi da 8 Come sono messi I loro manpower Zero Quindi io ho il doppio Dei loro uomini Essenzialmente Ok Tafilalt Vai Io vado qua adesso Forse li becco Vengono anche loro Vengono anche loro Bra Eh va bene Vediamo Vediamo un po' Che succede Va Che due coglioni Questi faccio fuori Benissimo Adesso faccio fuori Quelli Quelli lì Venite Venite Perfetto Perfetto Adesso li inseguo Eh beh Devo far così adesso Sono 10.000 Contro 22.000 30.000 Quello che è Insomma Li inseguo E prendo i loro terreni Tranne un Devo consolidare Eh Questo insieme Consolida Ok E poi direi di fare Un paio Di mercenari Ok Per la Per la Per prendere i territori Dietro Cosa vuoi Questo qua Potrei anche darlo Corse No 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 Vaffanculo Ti prendo i territori E non andrà Catturare Vai vai Ok A me sta sul Cazzo Il fatto che non li vedo arrivare 12.000 Contro 23.000 Però stiamo qua E riprendiamo I nostri territori Tanto loro arrivano Io scappo Torno indietro Gli faccio morire Di fame Ok Finito Tanto portiamo su La tecnologia militare Come il pane Ci serve E direi che Ci possiamo fermare Qua Vi ringrazio per avermi seguito Adesso cerchiamo Di riportarci a casa I territori Che ci hanno strappato Con l'infamia E andare avanti Almeno Alla pace bianca Non voglio cedere Nessun territorio Chiaramente Pace bianca Mi potrebbe far comodo Perché sono veramente In merda Se riesco a strappare qualcosa È meglio Vediamo Non voglio esagerare Più di tanto Grazie Al prossimo episodio Grazie